Cos'è il modulo di sgancio? È un dispositivo di sicurezza per i caricatori di veicoli elettrici di ultima generazione, conformi a questa norma. Consente di pilotare una bobina di sgancio per l'apertura, in caso di guasto di un magneto termico installato a monte di prism. Il modulo di sgancio fornisce un contatto pulito che interviene in caso di guasto di prism e che può essere utilizzato per azionare una bobina di sgancio installata sull'interruttore magneto termico messo a protezione di prism. Prima togliamo l'alimentazione a prism, importantissimo! Dopo dobbiamo togliere la cornice, rimuovere la cover frontale svitando le viti, inseriamo il modulo di sgancio e qui ci sono i contatti dove si può collegare la bobina di sgancio a protezione di prism, che è messa sull'interruttore generale di prism. Riposizioniamo la cover a prism, serriamo bene le viti e rimettiamo la cornice a scatto. Nel caso delle colonine di prism solar è disponibile come accessorio separato, mentre prism solar s ha il modulo di sgancio già installato all'origine da noi. Basta solo collegarlo. Su questo foglio, presente nella confezione quando viene venduto come accessorio, potete trovare lo schema di collegamento oppure sul manuale di installazione. Se hai qualche domanda al riguardo, puoi sempre chattare con uno dei nostri operatori direttamente dal nostro sito internet. Oppure puoi scrivere una mail a support-sila.industries e ti risponderemo il prima possibile. Grazie a tutti.